ragazzi allora oggi parlerò di questa partita dei miei amici di questa partita che entra in stasera a quello della Tata Turk di Monster City e Inter che andranno a sfidare che andrà in generale questo spettacolo meraviglioso e che si tingeranno di meraviglioso dell'altra parte e i colori del City che andrà stasera a venere la partita quindi mi raccomando e mi rinnovo anche una buona serata ma io mi gufero quindi tutta l'Italia dovrebbero gufare a quei paneaggi e cartolati nel 1908 perché loro sono stati coppia quando noi ok quindi ma io non devo rischiare sì ma probabilmente la terra rischia più forte quindi enesima vittoria nel City dopo nel terremoto perché alla finale ci sarà anche Mkhitaryan e Cananoglu insieme con Di Marco con Lautaro e Dzeko mi sembra che Lukaku entra dalla panchina e quindi ci sarà quindi farà un ampio turnover in Zaki quindi mi raccomando e ci gustiamo la partita stasera quindi sarà fondamentale vincere questa finale di Champions League e inoltre io ho fatto questa analisi tattica quindi l'analisi tecnica e la faccio stasera o domani quindi noi ci vediamo per il prossimo video per il prossimo video e poi vi confermo tutto che cosa ne pensate di questo qua sotto nei commenti grazie allora buona partita a tutti e che l'unica e che l'unica cosa che conta è vincere stasera quindi fate il vostro nome e forza City allora incominciamo dall'alimentus che andranno a fare i copi di mercato ovvero quello di mandare via alle Acri e già lo sappiamo perché arriva una maxi offerta dall'Arabia Saudita dove allenera Ronaldo Max e io non lo permetterò no deve rimanere qua deve rimanere in Italia come cazzo si fa a mandare via un allenatore così del genere fate schifo fate fate schifo punto uno società senza palle e dirigenza senza palle ok noi questi siamo siamo ridicoli siamo ridicoli se cazzo si fa a mandare via un allenatore così se cazzo si fa a mandare via un allenatore così ma siete un becino sit eh come si fa a perdere un'altra volta dico io come si fa dopo la conferma del contratto come si fa eh io non manderei via questo allenatore perché ha un contratto di due anni perché ha un contratto di due anni io io il mito mio non ho mai io non ho mai mandato mia andare a Cri e non sono contro questa è una protesta è una protesta contro l'alliatore è una protesta sì è una protesta me lo dico io è una protesta uno due se la dirigenza non riscattirà a Milik ora può tornare in Francia per qualsiasi mondo ok ok perché me lo dico ti scesse mi premer perché io anche voglio andare via ma la letra comincia comincia che Andrien resterà sì ma non è detto che loterai perché lui deve fare una cosa positiva come l'abbiamo sempre fatto ok questo è il mio pensiero dal cacciomercato poi dobbiamo manutare dobbiamo manutare anche per fratelli che si arriva allora può accettare per resumire Miche Savic che la più può restare oma mia secondo me è così poi per quanto riguarda la romana noi lotteremo ancora all'aumento in questa cosa è che dobbiamo rivoluzionare questo centrocampo con fangioni pompa locatelli per miglietti cinema con un bicone riscatto con il prestito oneroso più bene ce in prestito e attraendo domanda mia sicuro perché non ha mai giocato e poi infine c'è quello di mosecchina e da crack anche quindi questo è tutto anche per la questione di Zagnolo purtro Zaccaria lo stesso che Arthur Mekenni e Poluzeschi per 35 milioni più 4 milioni a Scamacca ce ne vogliono pure Agnanto ad esempio se dobbiamo mandare via a Moisettine e da crack quindi insieme voglio far giocare con la omic e sul posto di Maria io confermerei un'altra volta cosa adibana nella jumentus quindi questo è tutto quindi mi raccomando e non facciamo sempre gli stessi errori eh se no come cavolo ragioniamo così un po' di pazienza ragazzi un po' di pazienza per questo uomo e il rispetto dobbiamo dare il rispetto per la squadra in campo ok quando sarà in campo in agosto nelle amichevoli quindi ripartiremo dall'uglio agosto settembre quando inizi quando inizia il nuovo campionato dal 2034 e finisce al 2025 ok quindi c'è un obiettivo da raggiungere e quindi basta così perché i miei obiettivi si vincono sempre sui risultati che portano alla verità sul campo e in tutto quindi mi raccomando non manca tenne rispetto all'uomo perché siamo noi come hanno gridato a gran voce io questo voglio quindi io faccio gli abbonamenti sull'Aumentus per rendere le partite e nei costi di biglietti che sarà a disposizione della campagna acquisti che nelle eccezioni tipo luca penetrini poi ha lo stesso nel winter che sarà per comprare un altro quindi questo è tutto quindi mandiamo mia sempre i giocatori mandiamoli mia rivoluzionare tutta la squadra rivoluzioniamo la difesa centro campo e basta quindi questo è tutto mi raccomando il cemino post partita di stasera che andremo in cena così a quello della daturk park quindi nella terra di cialanoglu lì in campo un semeone muoio stasera con i monster un semeone sul campo e maniata ai cartonati ok li dovete mangiare perché prima sfrutta alcuni la e capi quindi buona serata stasera e buon sabato a tutti e mi rinnovo anche una buona partita quindi iscritti al canale amici miei like per la partita di stasera che mira e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti quindi ci mandiamo nel post gara alla fine partita quindi vi aspetto